I risultati definitivi del referendum sulla riforma costituzionale in Veneto hanno evidenziato una netta prevalenza di no, sono il 61,9% contro il 38,1% di sì. I votanti sono il 76,66% degli aventi diritto. I dati comunque sono in linea con la media nazionale. A sorprendere la percentuale dei votanti, un segnale inequivocabile sul pensiero degli italiani che non si fidano più, che vogliono il cambiamento, ma un cambiamento libero con la consapevolezza che esiste la democrazia. Il 4 dicembre ricorre Santa Barbara, nominata patrona dei Vigili del Fuoco. Numerose le celebrazioni che si sono svolte in momenti diversi sul territorio per celebrare la martire che venne rinchiusa dal padre in una torre. La patrona dei Vigili del Fuoco è stata festeggiata domenica nei comandi di Venezia, Verona, Vicenza e Rovigo, mentre venerdì si è celebrata a Treviso e sabato a Padova. A Belluno la cerimonia si è svolta nella mattinata di lunedì. Numerosi cittadini hanno partecipato alle cerimonie religiose e visitato le sedi dei Vigili del Fuoco, aperte per l'occasione. A Vicenza i visitatori hanno potuto assistere ad un saggio professionale, mentre per i più piccoli è stato predisposto il percorso di Pompieropoli. Secondo la storia, Santa Barbara venne rinchiusa dal padre in cima ad una torre. Quando scoprì la sua fede, iniziò a torturarla in modo terribile. Le venne anche appiccato il fuoco sul corpo, ma improvvisamente le fiamme si spensero. Le torture proseguirono, ma lei non rinnegò la sua fede. Alla fine suo padre la uccise decapitandola. Poco dopo l'uomo venne ucciso da un fulmine o comunque da un fuoco mandato dal cielo. Dopo la sepoltura di Barbara, presso la sua tomba cominciarono ad avvenire guarigioni miracolose. Un groviglio di lamiere impressionante, lo scenario dello scontro tra due auto avvenuto lungo la strada provinciale 24 in località Torre Rossa di Camisano, in provincia di Vicenza. Sul posto sono giunti i soccorsi, tra i quali i vigili del fuoco, indispensabili per estrarre i due feriti rimasti intrappolati dentro la Fiat Punto. A bordo una coppia della provincia di Padova. Marito e moglie sono stati stabilizzati sul posto e poi portati all'ospedale. Il Leisa, la conducente dell'altra macchina, una Turan, sembra che quest'ultima auto stesse uscendo da un'area di servizio quando è avvenuto l'impatto, ma saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica dell'incidente. Al peggio non c'è mai fine. La lista di comportamenti sconsiderati a Venezia racconta episodi al limite dell'immaginario, ma ciò che è successo in questi giorni va ancora oltre. Un turista si è lanciato con la tavola da surf dal ponte degli Scalzi, sul Canal Grande. Immaginare che siano comportamenti vietati pare evidente, ma cosa scatta nella testa di chi si diletta in azioni sconsiderate non si riesce a comprendere. I presenti increduli hanno assistito alla scena. Il turista di nazionalità giapponese indossava anche la muta, era ben attrezzato, si è lanciato e una volta in acqua ha proseguito con il suo intento, navigando tra barche e vaporetti. In poco tempo la sua impresa però è stata fermata e lui sanzionato pesantemente, non è esclusa la denuncia. Grazie. 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 Il Presidente della Repubblica in una nota dopo il voto di ieri ha ricordato che vi sono di fronte a noi impegni e scadenze le cui istituzioni dovranno assicurare il rispetto garantendo risposte all'altezza dei problemi del momento. L'Italia è un grande paese con tante energie positive al suo interno. Anche per questo occorre che il clima politico pur nella necessaria dialettica sia improntato a serenità e rispetto reciproco. L'alta affluenza al voto ha spiegato Mattarella registratasi nel referendum di ieri e la testimonianza di una democrazia solida di un paese appassionato capace di partecipazione attiva. E dunque un risultato quello di ieri che ha portato alla vittoria del no ma in particolare ha evidenziato una partecipazione di massa da parte della popolazione. Vogliamo sentire nel prossimo servizio i dati riguardanti il Veneto. I risultati definitivi del referendum sulla riforma costituzionale in Veneto hanno evidenziato una netta prevalenza di no. Sono il 61,9% contro il 38,1% di sì. I votanti sono il 76,66% degli aventi diritto. I dati comunque sono in linea con la media nazionale. A sorprendere la percentuale dei votanti, un segnale inequivocabile sul pensiero degli italiani che non si fidano più, che vogliono il cambiamento, ma un cambiamento libero con la consapevolezza che esiste la democrazia. Dobbiamo parlare di una tragedia della strada, un incidente mortale avvenuto questa mattina sulla statale 16 Adriatica a Canaro in provincia di Rovigo. Una donna di 54 anni, Laura Grammegna, ha perso la vita. La donna era alla guida di una macchina che si è scontrata frontalmente contro un mezzo pesante. Non è chiaro ancora cosa sia accaduto. La macchina che guidava improvvisamente ha invaso la corsia opposta e l'impatto tra i mezzi è stato inevitabile. La vittima era di Santa Maria Maddalena. E dobbiamo parlare di un altro incidente stradale, uno scontro, due feriti che sono stati stabilizzati sul posto. Impressionanti le immagini delle vetture. Un groviglio di lamiere impressionante, lo scenario dello scontro tra due auto avvenuto lungo la strada provinciale 24 in località Torre Rossa di Camisano in provincia di Vicenza. Sul posto sono giunti i soccorsi, tra i quali i vigili del fuoco, indispensabili per estrarre i due feriti, rimasti intrappolati dentro la Fiat Punto. A bordo una coppia della provincia di Padova. Marito e moglie sono stati stabilizzati sul posto e poi portati all'ospedale. Il Leisa, la conducente dell'altra macchina, una Turan, sembra che quest'ultima auto stesse uscendo da un'area di servizio quando è avvenuto l'impatto. Ma saranno i carabinieri a ricostruire la dinamica dell'incidente. Tiziano Nardin, presidente del Treviso Calcio, società che milita nel campionato eccellenza, è stato aggredito ieri sera all'esterno della sua abitazione a Silea, a Treviso, da alcuni sconosciuti che avevano il volto coperto. Sul fatto, stanno indagando i carabinieri, il gesto potrebbe essere riconducibile alle difficili situazioni economiche e sportive vissute dalla società, che si troverebbe anche nell'impossibilità di far fronte a spese dovute e rimborsi ai calciatori. Poco prima dell'aggressione a Nardin, la squadra aveva perso in casa una gara di campionato. Il presidente era stato fatto oggetto di pesanti contestazioni da parte di alcuni tifosi. Per le contusioni riportate durante l'aggressione, Nardin ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza ha preso atto delle dimissioni rassegnate da Iorio e domani 6 dicembre è prevista una riunione del Consiglio di amministrazione per cooptare un nuovo amministratore per disegnare il nuovo amministratore delegato. Una notizia importante che arriva dal Padovano. I carabinieri hanno arrestato l'uomo di 36 anni, originario della Romania, ritenuto il responsabile della violenta aggressione avvenuta l'altra notte. L'uomo, sottoposto a fermo per lesioni personali gravi, futili motivi riconducibili a uno stato di ebrezza alcolica, avrebbe avvicinato due ragazzi di 32 anni colpendoli senza motivo con pugni al volto. Uno dei due della provincia di Verona, un ragazzo di 32 anni, dopo essere caduto a terra, aver battuto violentemente la testa contro l'asfalto, è ricoverato in gravissime condizioni. Si trova nella rianimazione dell'ospedale di Padova e l'aggressore che fino a questa mattina era sconosciuto è stato rintracciato a Montagnana nell'abitazione di un suo connazionale. Solo poco tempo fa un uomo si è lanciato da un ponte a Venezia per una bravata, bravata che gli è costata la vita perché dopo il volo dal ponte anziché cadere in acqua aveva centrato un barchino e dopo una lunga agonia era avvenuto il decesso. In questi giorni un altro turista ha compiuto un'azione inimmaginabile. Pensate che si è lanciato da un ponte con la tavola da surf. Al peggio non c'è mai fine. La lista di comportamenti sconsiderati a Venezia racconta episodi al limite dell'immaginario ma ciò che è successo in questi giorni va ancora oltre. Un turista si è lanciato con la tavola da surf dal ponte degli Scalzi sul Canal Grande. Immaginare che siano comportamenti vietati pare evidente ma cosa scatta nella testa di chi si diletta in azioni sconsiderate non si riesce a comprendere. I presenti increduli hanno assistito alla scena. Il turista di nazionalità giapponese indossava anche la muta, era ben attrezzato. Si è lanciato e una volta in acqua ha proseguito con il suo intento navigando tra barche e vaporetti. In poco tempo la sua impresa però è stata fermata e lui sanzionato pesantemente. Non è esclusa la denuncia. Gli uomini delle volanti della questura di Vicenza hanno messo in fuga un gruppo di malviventi che aveva appena realizzato un furto da 30.000 euro in stecche di sigarette ai danni del monopolio. Gli agenti hanno ingaggiato un lungo inseguimento con i ladri che si è concluso con il blocco di un furgone. L'intera refurtiva è stata recuperata. I malviventi sono invece riusciti a scappare. Sono comunque tuttora ricercati. Oltre 31 anni di carcere per la rapina ai danni del Museo di Castelvecchio in provincia di Verona rapina del 19 novembre 2015 sono stati inflitti in tribunale a Verona a quattro imputati ritenuti colpevoli di rapina a mano armata in concorso oltre al sequestro di persona. Il GIP Luciano Gorra ha praticamente accolto le richieste del pubblico ministero condannando a 10 anni e 8 mesi Pasquale Silvestri Ricciardi, a 10 anni suo fratello gemello Francesco, 6 anni alla Moldava compagna di Pasquale, 5 anni al connazionale di quest'ultima. In precedenza gli altri due imputati avevano patteggiato una condanna rispettivamente a 3 anni e 4 mesi e il Moldavo a 1 anno e 8 mesi. Un processo senza corpo del reato. Le 17 opere infatti devono ancora arrivare in Italia. La polizia locale di Padova sta cercando di individuare il conducente del furgone che l'altra notte ha terrorizzato gli automobilisti intorno alle 3 e mezza. Passavano percorso Australia quando si sono trovati davanti un furgone contromano, un furgone che procedeva anche a zigzag. Fortunatamente non ci sono state conseguenze e gli utenti della strada sono riusciti ad evitarlo, però sono stati momenti di grande spavento. Celebrazioni in tutta Italia. A partire da venerdì, momenti particolari sono svolti anche oggi. Stiamo parlando della patrona dei Vigili del Fuoco, ma non solo, ovvero Santa Barbara. Guardiamo. Il 4 dicembre ricorre Santa Barbara, nominata patrona dei Vigili del Fuoco. Numerose le celebrazioni che si sono svolte in momenti diversi sul territorio per celebrare la martire che venne rinchiusa dal padre in una torre. La patrona dei Vigili del Fuoco è stata festeggiata domenica nei comandi di Venezia, Verona, Vicenza e Rovigo, mentre venerdì si è celebrata a Treviso e sabato a Padova. A Belluno la cerimonia si è svolta nella mattinata di lunedì. Numerosi cittadini hanno partecipato alle cerimonie religiose e visitato le sedi dei Vigili del Fuoco, aperte per l'occasione. A Vicenza i visitatori hanno potuto assistere ad un saggio professionale, mentre per i più piccoli è stato predisposto il percorso di Pompieropoli. Secondo la storia, Santa Barbara venne rinchiusa dal padre in cima ad una torre. Quando scoprì la sua fede, iniziò a torturarla in modo terribile. Le venne anche appiccato il fuoco sul corpo, ma improvvisamente le fiamme si spensero. Le torture proseguirono, ma lei non rinnegò la sua fede. Alla fine suo padre la uccise decapitandola. Poco dopo l'uomo venne ucciso da un fulmine o comunque da un fuoco mandato dal cielo. Dopo la sepoltura di Barbara, presso la sua tomba, cominciarono ad avvenire guarigioni miracolose. Prosegue lo spazio dedicato all'informazione. Torniamo anche questa sera a parlare di fisco con la rubrica curata da Alberto De Franceschi, esperto tributarista. Buonasera Patrizia, buonasera. Lei e i suoi ascoltatori. Allora, ragioniere De Franceschi, abbiamo parlato in questi giorni della rottamazione delle cosiddette cartelle Equitalia. A questo punto vorrei intanto chiederle un attimino la conferma dei termini perché so che è cambiato qualcosa. Certo, il termine di presentazione non è più il 27 di gennaio, ma è entro il 31 marzo. Questo è stato definito in maniera tassativa per ora, salve però sempre degli slittamenti all'ultimo minuto, con una risposta entro il 31 maggio da parte di Equitalia. Quindi, 31 marzo, termine presentazione e domande, 31 maggio, termine risposta di Equitalia. Ecco, attenzione, per poter fare la richiesta di adesione alla rateizzazione è necessario produrre dei modelli. Ragioniere De Franceschi, quali sono? Eccolo qua il modello, il famoso modello di A1, lo vediamo qui in tutta la sua semplicità e bellezza. è stato pubblicato proprio... Ha detto semplicità, è semplice davvero. Semplicità e bellezza, bisogna essere positivi. Abbiamo voltato pagina da ieri e quindi parliamo di cose che siano più semplici realmente. Sono state aumentate le rate, sa che sono passate da 4 a 5, e sono stati predisposti i nuovi termini di rateazione. Io voglio segnalare brevemente uno che è importante, sulle 5 rate. La prima sarà a luglio e pari al 24%, la seconda sarà a settembre ed è pari al 23%, parliamo del 2017. La terza è a novembre, sarà il 23%, quindi quasi il 70% per il 2017. Poi andiamo nel 2018, ci sarà un ulteriore 30% che è a settembre 2018 e con questo abbiamo concluso col 100%. Come avete visto, la rateazione è ancora pesantina perché il termine che avevo sollevato a suo tempo è proprio che su importi piccoli si fa semplicemente, si può fare, è effettivamente un'agevolazione. Proprio qui, ragione De Franceschi, io volevo arrivare perché quando parliamo di cifre importanti, una rateizzazione per 5 scadenze mi sembra un po' poco, soprattutto se magari parliamo di centinaia di migliaia di euro. Ha ragione perfettamente e infatti il tema è piuttosto di valutare se c'è qualche cartella, per esempio se uno ha molte cartelle non pagate o rateizzate che non riesce a far fronte, di estrapolare qualche cartella rispetto alla massa complessiva. È un tema che, come le ripeto, avevo già posto, effettivamente ha ragione, non è una legge che osserva gli interessi di tutti, perché chi ha centinaia di migliaia di euro sicuramente la rottamazione non è una cosa che le può interessare. E diciamo anche che proprio per valutare queste cose, per pesarle bene, bisogna rivolgersi a dei professionisti, anche perché proprio in questo modello sono state pubblicate gli indirizzi dove poterli spedire i modelli e sono indirizzi e posta elettronica certificata che notoriamente non sono in uso a tutti i contribuenti. Ecco, quindi è fondamentale dal suo messaggio anche dotarsi di una PEC. Sì, o altrimenti rivolgersi a un professionista che comunque è di suo uso normale. Dotarsi la PEC, una persona che ha 60-70 anni, per quanto... Prima di andare dal professionista, farci seguire e di conseguenza utilizzare la sua PEC. Penso proprio di sì. Io la ringrazio per i suoi consigli preziosi. Ci vedremo domani sera per scoprire delle altre novità. Noi continuiamo con lo spazio dedicato all'informazione. Una notizia importante che riguarda i trasporti. Il sindacato Orsa Ferrovie ha proclamato uno sciopero del personale di rete ferroviaria italiana e di treni Italia dalle 9 alle ore 17 di venerdì 9 dicembre. Lo fa sapere Ferrovie dello Stato, precisando che dallo sciopero sono escluse le regioni Liguria e Toscana. Parliamo di clima. In conclusione, l'espansione di un'area di alta pressione dall'Atlantico porterà condizioni di tempo stabile sulla regione. Su zone montane, pedemontane e alta pianura il tempo sarà ben soleggiato. Altrove si avranno giornate caratterizzate da foschie e nebbie, soprattutto nelle ore più fredde. È tutto per questa edizione. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci a domani sera. Chi può perdonare i peccati? Dio perdona, io no. È il titolo terribilmente duro, ma incredibilmente vero, di un vecchio western. Noi perdoniamo davvero. Noi uomini, semmai, entriamo in perdonanza, una sorta di transumanza del cuore. È il lento, lungo e faticoso passaggio dai territori impervi del dolore e della rabbia a quelli più fertili e, per così dire, edificabili del perdono. L'arte della perdonanza non ci è data secondo natura, in questo siamo più simili agli animali. Aggrediti reagiamo, feriti mordiamo. Salvo scoprire poi che ciò non fa che perpetuare il dolore, aumentare lo squarcio, ingigantire la rabbia. Ogni male, ricevuto o fatto, ci rende paralitici sulla barella del nostro bisogno di vendetta. E non basta dire o sentirci dire, ho messo una pietra sopra. Perché il male non si dimentica, resta lì e si fa sentire. Per questo Gesù perdona e perdonando guarisce, per ridare energia, per far fluire nuovamente la vita, per sciogliere il corpo e il cuore dalla paralisi che li tengono prigionieri, per ridare futuro. A chi il male lo ha subito, a chi il male lo ha fatto. Entrare in perdonanza ci porterà a viaggiare su territori nuovi, lungo tratturi stretti e passaggi impegnativi, ma più vicini al cielo, meno bestiali, più umani.